Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Lego Jurassic World per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo, nello scorso episodio purtroppo l'Indominus è scappato dal suo recinto Quindi oggi Claire e Owen dovranno cercare di riportarcelo Come sempre prima di iniziare vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video perché potete trovare tanti link utili se siete interessati ad acquistare il Lego Jurassic World Se volete comprarlo in digitale vi consiglio di acquistarlo su Instant Gaming In questo modo avrete la possibilità anche di risparmiare qualcosina Trovate il link sempre nella descrizione di questo video Ed eccoci qua Ankylosauri Ankylosaurus Non dovremmo essere qui e ci sono cinque dinosauri Salve Abbiamo incontrato l'Indominus, conviene scappare Mamma mia E si parte all'inseguimento Si qui hanno tagliato un po' di scene Una delle scene più toccanti del film è quando Owen scopre che l'Indominus Caccia solo per sport E ha abbattuto tutti gli apatosauri Diciamo che si sono ispirati al Triceratops malato del primo film Non credo che possiamo passare di qui in autosac Vai tranquillo Guardate che belli gli apatosauri là in fondo No Butta giù la monortaia eh Chiedete aiuto Eh effettivamente Sarebbe meglio Mamma mia È proprio cattivo cattivo eh Attenzione 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 Vai Grey Dov'è andato? Ah si è nascosto Sta inseguendo dei Gallimimus No c'era l'Ambra l'Ancima L'ho mancata purtroppo Eh adesso probabilmente si scontrerà con Un Ankylosaurus Probabilmente No Eee Grey Ciao ciao Mamma mia Attenzione Ok scontro tra giganti Tutto bene Non riesco a uscire da qui Dovremmo aiutare l'Ankylosaurus Potrebbe sconfiggere l'altro Sei tu l'esperto qui La vedo dura Però si Così è mezzo condannato eh Io faccio un po' di casino Per vedere se riesco a recuperare Qualcosa di utile A parte un sacco di monetine Nel film sapete tutti quanti Com'è andata Magari Nel gioco Lego va diversamente Eeeh Mi sa che l'unica soluzione So io cosa fare Eh si L'unica soluzione è Tiragli addosso Quel nido di api Ottimo Perfetto Centrato Adesso di nuovo in piedi Dobbiamo passare alla prossima zona Vai Ankylosaurus Picchialo 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 Y No 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 Gli ha preso la testa Ha evitato Boom Grandissimo Grandissimo Così si che si ragiona Adesso dobbiamo spostarci dall'altra parte E continuare a dare una mano a L'Ankylosaurus La tua idea funziona Cos'altro possiamo fare Esti copi Sono sempre presenti Esti copi Alcuni dinosauri Come l'Indominus Possono ruggire E frantumare Gli oggetti Lego D'Ambra Non la sapevo Sta cosa Qui ci serve Grant O Owen Uno dei due Ok ho capito Devo infilarmi lì Devo infilarmi da questa parte Attenzione che c'è l'Ankylosauro Di nuovo In difficoltà Disturbalo Fagli un po' di foto Attenzione che si arrabbia Picchialo Vai Ankylosauro Rieccoci qua Attenzione Y Grande B Boom Una bella martellata In faccia Attenzione No 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 Dobbiamo Rifare Eh se si sbaglia A cliccare Si ricomincia da capo Ottimo Ottimo E ottimo Guarda come si arrabbia L'Indominus Non potrò mai portare La girosfera Su quell'albero Posso fare una rampa Cosa caspita Abbiamo costruito Oh mamma Cosa caspita Abbiamo costruito Grazie Vieni Zack Uh Aspetta un attimo E come faccio Ad arrivare fin là No Non ce la farò mai Ad arrivare là sopra Vabbè Lui è volato giù Devo aiutarlo di nuovo Fai attenzione Dobbiamo arrampicarci Mamma mia Grey Cos'hai rischiato Lì Cos'hai rischiato Lui mi sa che c'è qualcosa Che possiamo costruire E sta jeep Boh C'è una jeep Abbandonata Guarda che roba Lo riempiamo di uova Mi sa che questo Sarà l'ultimo scontro No Aia Ah non si fa intimidire Dal martello Dell'anchilosauro Va Non ci provare Boom No Ho sbagliato a cliccare Allora Dai 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 Che ce la possiamo fare Y A E B Ottimo Guarda che scappano Ah la jeep Non andava distrutta Perché tanto La distruggevano poi loro Ok Mi sa che ci serve Tutta sta roba Per creare un passaggio Per 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 Aia Che male Via 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 Ragazzi Via Non disturbatemi Ok Una bella scaletta Guarda Guarda Guardalo L'ha preso per la coda L'ha preso per la coda Ah lui può passare da questa parte Però dobbiamo dargli una mano Ho costruito una piattaforma di lancio Perfetto se n'è andato dall'altra parte Oh mamma che casino Funziona ancora Che casino Facciamo che usare la girosfera per rompere un po' di roba Gray Gray devi raggiungerlo Eh mi sa che può passare da questa parte e basta Non ci sono altre opzioni Ottimo Adesso scendiamo E dobbiamo ricostruire questo scheletro Cosa caspita Ah E' un gancio Ma dimmi te Dobbiamo utilizzare la gru Come si usa quest'affare Vai vai Tu fai girare la Fai girare la cromosfera E poi si vedrà Ehm No però forse devo prendere la jeep e tirargliela in testa Forse Mi sa che è la soluzione giusta Infatti vedete Dobbiamo prima prendere la jeep E poi tirargliela in testa Facciamolo girare dall'altra parte Forse ci siamo Steso Che mal di testa Oh ioi Attento Vai 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 Scappa via Attento Zach Mamma mia Oh mamma Scappa 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 Mentre distratto Scappa Si mimetizza vero Ma il recinto è pieno di telecamere a infrarossi Per sfuggire agli infrarossi deve cambiare l'impronta termica Nessuno sa farlo Ah si? Beh questa può farlo Se la viaggia per tutto il parco Deve essere stata una specie di avaria tecnica Ma Stavate guardando Ammarchiato quel muro come diversivo Voleva che pensassimo che fosse fuggita Ora chiuderò tutto quanto a nord del resort Lasciamo che la catturi il reparto contenimento senza chiasso L'esistenza stessa del parco dipende dalla capacità di gestire incidenti simili Io ne parlerei con i tuoi ragazzi del laboratorio Quella cosa là fuori Non è un dinosauro In effetti Devi riportare subito i ragazzi all'albergo Aspetta Non riesco Rallenta Sono cosa? Ho bisogno di te I miei nipoti Sono nella valle Ok ragazzi Abbiamo completato il livello valle delle girosfere Praticamente Zack e Grey non sono rientrati con le altre girosfere Ma sono andati a farsi un giro E hanno incrociato l'Indominus E adesso Owen e Claire dovranno andarli a recuperare Direi che possiamo terminare questo episodio di Lego Jurassic World qua Diciamo che hanno allungato lo scontro tra l'Ankylosaurus e l'Indominus Perché nel film dura pochissimo Dato che praticamente l'Indominus lo gira sotto sopra e se lo mangia Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate, condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui su Lego Jurassic World Alla prossima ragazzi Iscrivetevi al canale